bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo mini video questa volta non sono accompagnato il grint ma volevo dirvi una cosa prima di farvi vedere questo video senza buttarvi subito dentro, senza sapere che cos'è questa è una specie di top 5, una nostra top 5 edita 15 su ps4 questo video l'abbiamo caricato sulla pagina facebook quindi se vi interessa andate anche a mettere mi piace sulla pagina di faccia di libro detto questo ragazzi vi lascio a questa top 5 chiamiamola così perché è un po' vi lascio a questo video supportateci lasciando mi piace, un commento e soprattutto iscrivendovi al canale Silvestro Anni vi saluta e anche il grinta che in questo momento non c'è ci vediamo alla prossima bella ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti